Continua l'immenso lavoro di catalogazione informatica dei beni culturali mobili della Diocesi di Bergamo. Il materiale già archiviato consta di oltre 270.000 schede per un totale di circa 280.000 immagini digitali a colori. Il tutto è inoltre accessibile grazie a internet con il sito www.beniculturali.diocesi.bergamo.it La Diocesi di Bergamo ha un catalogo online che costa di oltre 270.000 schede e oltre 300.000 immagini digitali. Da oggi, o meglio già da qualche mese, questo patrimonio è consultabile online all'indirizzo www.beniculturali.diocesi.bergamo.it ed è possibile visualizzare le schede e le immagini digitali attraverso un primo accesso libero. Sarà possibile inoltre attraverso un accesso registrato stampare le schede, scaricare le immagini digitali e visualizzare i beni, gli edifici contenitori dei beni. Si può anche vedere da vicino in dettaglio le opere. Esattamente, è possibile infatti attraverso un'ottima risoluzione delle immagini digitali ingrandirle e appunto navigare all'interno dell'immagine stessa. Avete bisogno anche di collaboratori sul territorio. Abbiamo più che altro bisogno, o meglio sensibilizziamo, la nascita di gruppi parrocchiali denominati Amici per i beni culturali ecclesiastici che in qualche modo aiutino a valorizzare il patrimonio delle loro parrocchie e del territorio stesso. Quindi poi si lavora in team per fornire documentazione. Non solo, anche per produrre principalmente sul territorio anche qualsiasi tipo di materiale, di iniziativa atta appunto alla valorizzazione, alla conoscenza del patrimonio, soprattutto da un punto di vista di riscoperta di messaggi teologici legati appunto alle opere d'arte. Chi volesse aderire come può contattarvi? Allora può contattare l'ufficio beni culturali appunto della diocesi di Bergamo.